I pattini sembrano scivolare leggeri sul ghiaccio, ma osservando meglio notiamo graffi e grepe sulla superficie ghiacciata. Nel tuo motore avviene lo stesso e a causa degli attriti si possono creare graffi e fenditure. Hado ridurrà gli attriti, restaurando e proteggendo le superfici del tuo motore. Hado, ripara l'auto mentre la usi.